Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi Siamo tornati su Minecrafti da settima stagione Per fare una nuova farm Che ho ideato Ma non sono mai riuscito a costruire Nel corso del tempo e quindi oggi Direi andare a costruire proprio questa farmona Cazzo ho sbagliato Mi son buttato male a mento Ho cannato però la grande Il salto Comunque la farm di legno full automatica Ci vorrà un po' di tempo a crearla Calcolate che si Mi ci vorrà parecchio tempo per fare sta roba Perché ci vorranno Hop dentro Ci vorrà una farm di TNT sopra E ci vorrà una farm di legno che andiamo a costruire adesso Quindi la prima cosa è farmare legno Perché voglio anche legno estremo Dato che non ce l'abbiamo attualmente Ste mucche però le lasciamo qua Faranno il loro corso Quindi andiamo a farmare legno Come non ci fosse un domani Creeremo proprio un compattatore Guardate che questa comunque è stata una delle migliori idee Che mi potessero venire Creiamo un compattatore di legno oggi Che mi serviranno degli observer Della redstone ovviamente Mi serviranno un botto di pistoni 49 vanno benissimo Redstone repeater Dei comparator Una leva Mi servirà qualche dropper Barra dispenser Che attualmente non ho E che devo craftare Ah ovviamente certo Bone Indimenticabile bone Ci prendiamo una bella scorta di bone E Se no Non possiamo fare un ca... Cioè se non abbiamo i sapling Signori belli Uzi fa mea nulla Suzi fa mea nulla Uzi fa mea nulla Vorrei anche andare a dormire a questo punto Per il semplice fatto Sbagliato scusate Che è notte Quindi ci dormiamo E poi andiamo a cercare anche il posto dove farla Ho trovato gli asinelli Wow Ho trovato gli asinelli E andiamo Allora dove siamo? Mi dici Fri in dove cazzo sei? Sono un po' lontano da casa Non è vero Allora da quelle parti c'è il villaggio Con la farm di straeghe Di straeghe E qui invece se noi saliamo Hop 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 Dovremmo vedere tra pochissimo la major Quella lì la major È un po' lontanuccio effettivamente Però ci frega C'è l'elitra che attualmente non abbiamo Però Va bene lo stesso A questo punto che cosa andiamo a fare? Intanto andiamo a scavare tutta questa roba Che effettivamente dobbiamo abbassare il terreno E farlo una unico Dopodiché andremo a sistemare Alcune cose fondamentali Quali saranno la La parte redstone di questo percorso Perché effettivamente sarà un circuito redstone Non facilissimo Neanche una cosa impossibile Cioè Non è difficile Con gli observer si riesce a fare roba Veramente figa In maniera molto molto easy Infatti Per questo che li sto utilizzando parecchio Nelle ultime farm che abbiamo fatto Perché davvero sono molto molto versatili Si utilizzano bene E sono fighi in botto A questo punto direi di togliere anche tutta sta parte Che ci dà anche abbastanza fastidio Iniziare la costruzione Allora l'idea è che da qua noi partiremo E andremo a fare una striscia di legno In questa direzione Successivamente verrà compattata da questa parte In questa direction Ok procediamo Ok mea culpa Sono andato a casa Ho preso una sella Per i nostri cari amici bestiolini là E poi ho preso anche dei blocchi da costruzione Perché effettivamente me ne ero completamente dimenticato Del fatto che mi servissero dei blocchi da costruzione Ora non è per niente Ma devo fare una cosa un po' complaicata Qui ci va questo Qui ci va questo Quindi qua sotto Giusto Ok perfetto In questa direzione Giù L'observer va messo così Quindi qua sotto ci mettiamo Un pezzo di redstone A questo punto L'unica cosa da fare È creare È mettere un pezzo di redstone qui Mettere un blocco qua E mettere un observer In questa direction No Ci allontaniamo anche di più se è necessario Vabbè posso mettere anche così No al contrario Ho sbagliato Madonna ai costi observer Ancora ci devo prendere la mano Vi giuro Tac To fucking crazy Perché sta cosa? Bonifer Femme Tate pani Tate pani Tate pani perché metta Metta Mi servono i cosi I pistoni Allora così Così Pistone così Così E poi ne dobbiamo mettere uno sopra A pari della redstone Quindi saliamo E ce ne va un altro così A questo punto ragazzuoli belli Io devo fare una cosa del genere Mi serve un observer Che mi si metta Non in questa direzione Sto facendo veramente un casino E madonna Comunque piano piano Riusciremo a sistemare il tutto Guardate Fatto questo È abbastanza facile Non vi preoccupate Totalmente nell'altro verso E poi abbiamo completato Comunque vi giuro È facile È finita Tac Perfetto Una volta fatto questo Va messo Sì questo qua dietro Questo va tutto rimosso Che non ci serve Questa parte pure davanti Può essere rimossa tutta E siamo tutti felici e contenti Andiamo a fare una prova Tac Vediamo se mettiamo un blocco qui Ok perfetto Si update hanno tutti Ok va bene Ogni volta che lui Si update Updata tutto il resto Siamo tutti felici e contenti A questo punto ci serve Mi sono scordato anche il cazzo di dispenser Ma allora sono ritardato Effettivamente Sì Free Porca miseria Svegliati Va bene Svegliati la prossima volta Qui ci dobbiamo mettere tutta roba intorno Per il semplice fatto Che anche qua sotto Gradirei metterla Qui ci va della terra normale Quindi questo lo leviamo Questo lo leviamo Questo lo leviamo Facciamo una robina carina Tutta intorno Questo lo dobbiamo togliere Questo lo leviamo Ecco qua Perfetto E anche questo A sto punto Lo possiamo togliere Così E metterlo normale Perché tanto so Per certo Che ci andrà sopra Il Lock sapling Ok Molto bene A sto punto Facciamo un'altra cosa Guardate Da questo blocco Ci allontaniamo 1,2,3,4 blocchi E prendiamo il pistons 1,2,3,4 Ok Pistons 1,2,3,4,5 Quanti li mettiamo? Quanti ci stanno? 6 6 Tac E sono arti 4 Quindi tac tac A questo punto Li buttiamo così Hop 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 Questo sarà Questo è il vero compattatore E' qui che si compatta Pesantemente il legno Figa Che viene un 6x6 Di legno ignorantissimo Così e così 6x4 Lunga A bestia A bestia Ok Quindi il legno arriverà qui Tac 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 Si da una botta Vediamo Estendibile giusto Il pistone Fino a quanto estende Dai fatemi fare questa prova Con magari della Vabbè Possiamo utilizzare questa roba qua Quale? Così 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 Ok Significa che lui Sta attualmente così Io glielo update un attimo Loro si fanno così Ok Ne mettiamo un altro Riupdate Posso un update Ancora quindi Significa un altro pistone Ce lo posso mettere Vediamo se Continua No Non si muove più Quindi effettivamente Siamo arrivati alla lunghezza massima Che è un blocco extra Quello che avevo piazzato io Quindi possiamo piazzarne Un altro qua Tac 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 Molto molto bene Altezza massima è 4 E qui ci andiamo a mettere un observer Qui ci mettiamo l'observerino Qui ci mettiamo un bel blocco Poi andiamo a prendere Pistone Tac Tac No ho sbagliato? No Ok Giusto Giusto Così Ok Mi serve un blocco di redson A questo punto Mi serve anche una crafting table Che però non ho E posso tranquillamente però Prendere Con Dato che qui Cioè abbiamo un legno A quantità industriali Basta soltanto fare una roba del genere E farci questo coso qua Tac Tac Poi ci serviranno anche degli slab Però comunque siamo ferrati Anche perché abbiamo Preso poca redson Effettivamente E non mi basta tutta sta redson La redson che ho preso Quindi dovrò andare a casa Oltre per fare quello Per prendere anche della redson Ma l'utilità di questa bestia Quella che manco le tose Ci si possono mettere Allora Torniamo a casa Utilizzando Il nostro caro amico Animal Che abbiamo appena convinto Ad unirsi a noi Ok Ok Sopra gli alberi Questa ovviamente Minecraft è una delle peggiori Forse Bellissima sta cosa Che gli asini possono andare sugli alberi Cioè è una cosa Veramente Veramente Fighissima Secondo me Anche perché guardate È un sistema di comunicazione Non indifferente È proprio una strada Questa Che ti permette Di arrivare in punti fantastici Senza dover Poi andare a fare chissà cosa Perché io avrei dovuto fare Un giro della madonna Con questo asino Invece sugli alberi Faccio prestissimo Cavolo Mi hanno quasi ucciso l'asino Povero asinello Buttali dentro l'asino Via 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 Chiudi tutto Chiudi tutto Asino Chiudi tutto Chiudi tutto Ok perfetto Adesso sei al sicuro Asino Non dovrei più preoccuparti di nulla Perfetto Eccezionale Adesso andiamo a dormire Prendiamo le ultime due cose E poi Riandiamo a finire la farm Eccoci di nuovo Cari ragazzuoli Pronti per lavorare Redstone comparator Ci mettiamo dentro Questo 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 E questo Ok Penso di sì Bone a ruota È per forza Il bone meal Deve essere necessario Poi andremo ad upgradearlo Ok Perfetto Fungerà Insomma E no E no E non mi cresce l'albero E se non mi cresce l'albero Porca miseria Se non mi cresce l'albero Figa Mi cresce l'albero Mi cresce l'albero Ah Vediamo un attimo sto coso Andiamo a fare il sistema lì E poi Andiamo a sistemarlo Il sistema qua È abbastanza easy In verità Perché dovremo intanto No Wow 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 Creare Fai pensare se sopra o sotto Sotto Qua lo mettiamo Allora Guardate un po' come lo facciamo Questo Tac 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 Perfetto A questo punto prendiamo i repeater Che non ci basteranno mai Infatti non ci bastano i repeater Oddio ragazzi Cosa brutta No Ho sbagliato Questo va qui E va ad incrementare todo A questo punto Dobbiamo mandare anche la parte Che lo decrementa Che sarà questa qui E questa qua Quindi lui viene passato qua All'impulso viene fatto tutto questo E poi viene ridecrementato A questo punto però Non è finita Perché bisogna rimettere anche I cosi sopra che andranno qua Tac In questo modo Dopodiché bisogna prendere Uno più avanti Perché lo dobbiamo rimettere qua Il segnale Poi mi serve una crafting table Perché mi servono delle slab Una roba del genere Ok Questo è il semplice il classico compattatore di legno fatto però in maniera un po' più figa permettete così no, questo lo devo alzare di un punto quindi va fatto così e poi va fatto così perché ritorna indietro il segnale a questo punto possiamo tranquillamente rimettere i blocchi normal qui va fatta una roba del genere e poi ci mancano due comparatori parafuerza speranza che basti però non so se ci arriva il segnale di là facciamo una prova tac fine dove arrivano? si ok ok si accendono porca miseria ci avevo lasciato un blocco sopra vediamo se... no non cambia un cazzo oh non me lo fa crescere non cresce sto compattatore a 1.10 ma hanno cambiato qualcosa? ah ok ok no funge funge male ma funge oddio dopo mille mila anni funge ecco mi si è buggato perché si è creato quello estremamente alto allora fattibile come cosa? però certo l'impiego di bomb meal è veramente notevole non tantissimo però abbastanza ecco si sta creando questo sistema di compattazione piano piano riusciremo a farlo ho finito già il bomb meal no c'ho altri 50 pezzi delle volte si bugga delle volte si bugga delle volte non so per quale motivo no ma comunque vabbè per ora ci siamo per quello che mi ero prefissato di fare ci dovremmo tranquillamente essere quindi abbiamo creato sto compattatorino è carino mi piace funge abbastanza bene aspettiamo un'altra botta si ok funge fungicchia fungicchia quindi madonna che albero enorme cioè vi immaginate oddio cioè vi rendete conto che albero che è venuto fuori ok comunque volevo aspettare che arrivasse qua ma non credo ce la facciamo cioè ci servirà anche una farm di sapling a sto punto che poi andremo a fare successivamente è una molto molto semplice comunque ragazzoli penso che per questo video posso tranquillamente essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione e lasciare un mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook per farmi piacere una persona mi raccomando passate in tutti i link in descrizione facebook instagram e telegram diciamo come al solito a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti